Io sono vero, io sono la natura, è la corrida in diretta, è la storia di un amore, io non so parlare d'amore, questa vita è così, la corrida! La corrida, sabato alle 21, canale 5. Milioni di anni fa, Madrinatura creò un luogo che custodisce un tesoro di purezza. Oggi sappiamo che non fu soltanto un sogno. Altissima, purissima, ledissima. Quando con raffreddore, mal di testa, sintomi influenzali, va tutto storto. Vivinci ti dà una mano per sentirti meglio. È un medicinale, ha controindicazioni e può avere effetti indesiderati. È controindicato sotto i 16 anni, leggere attentamente il foglio illustrativo. Vivinci, velocemente, efervescente. Nuovo Aquafresh Extreme Clean. La sua schiuma microattiva raggiunge ogni angolo della tua bocca e aiuta a combattere le fonti dell'alito cattivo, anche dalla lingua. Lasciando su denti e lingua un'incredibile sensazione di freschezza e pulizia che sentirai la differenza. Estrema sensazione di pulizia con Aquafresh Extreme Clean. Da oggi, per denti e lingua. E questo è Livio sugli scogli. Guarda il tramonto. Guarda, nonna, Livio che ha preso una cernia così. Ma che, era così? Era così. E questo è il nostro ristorantino preferito. E allora? E allora? E allora? E allora a me tutto sto mare mi ha fatto venire un appetito. Tornarei nella sceglia di quattro salti in padella con pomodoro e olio d'oliva. Mi ricordano quelli della mia mamma, con i filettini buttati dentro all'ultimo. Ma tu le hai già mangiate? Certo che sì. Allora tu puoi passare diritto ai dolci, ovvia. E vatti a far un giro, vado. Quattro salti in padella a Fintus. Buoni come fatti in casa. Lui dice sempre niente, ma io so che a scuola fa tanto. Per questo gli do Kinder Brioche, l'unica con la doppia farcitura al latte, in un pane lievitato naturalmente. Kinder Brioche, nutriente ma leggera. Dici niente. Lidl conviene sempre. Da domani, cassettiera portaviti con 16 scomparti. Fissabile anche a parete a 7,99 euro. Succo d'ananas da un litro a 55 centesimi. Campania, dove l'accoglienza è un'arte. Il cuore è la vita. Aiutalo ogni giorno con un latte buono e leggero. Parmalat con Omega 3, che fanno bene a cuore e arterie. Parmalat Omega 3, il latte con il cuore. Spesso il dolore impedisce anche piccoli gesti quotidiani. Voltarene Mulgel, ad azioni antidolorifiche e antinfiammatoria. Ti rimetti in movimento. È un medicinale che ha controindicazioni e può avere effetti indesiderati. Leggere il foglio illustrativo. Voltarene Mulgel, gioia di muoversi. Se qualcuno è a conoscenza di un motivo per cui questo matrimonio non dovrebbe essere celebrato, parli ora o taccia per sempre. Nuova Ford Fiesta. Nuove emozioni al prezzo di sempre. Con doppio airbag, ABS e climatizzatore a 10.950 euro. Il successo continua. Prezzi bloccati fino al 28 febbraio. Festeggiali anche sabato e domenica. Tra di una festa in una sfida, che c'è di più bello? Amici. Se io voglio bene a una persona, è amore. Voglio trovare... Chi ti fai? Eh, non lo so. Penso a tante cose. A Robert lo capisco perché è innamorato lui. Secondo te lei ci tiene a te? Sì. Amici, la fase finale. Domenica alle 20.40 su Canale 5. Uliveto e il Ruc...